Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. In questo versetto è narrato un momento significativo della vicenda di Gesù, anzi diremmo il momento inaugurale della sua attività, della sua uscita da Nazareth, e lo troviamo a compiere un gesto, il gesto del ricevere il battesimo nel Giordano da Giovanni, che già da molto tempo aveva iniziato quel movimento di invito al cambiamento, alla conversione, che trovava il suo sigillo nel battesimo al Giordano. Momento quindi inaugurale della vita pubblica di Gesù, momento di inizio. Abbiamo incontrato nel mistero del Santo Natale l'evento della nascita di Gesù, la sua manifestazione nel giorno dell'Epifania, sappiamo quando e che è presente in mezzo a noi, quando è giunto in mezzo a noi. Oggi, nella festa del suo battesimo, ci viene rivelato e manifestato come vive Gesù, come inizia la sua vita Gesù, qual è lo stile della vita di Gesù, proprio da un gesto inaugurale. Il battesimo di Giovanni, un battesimo a cui accorrono tutti i peccatori desiderosi di rinnovamento, di cambiamento. Gesù si immerge in questo movimento, entra nel gruppo di queste persone che desiderano un cambiamento e che portano per depositare nelle acque del fiume Giordano il peso dei loro peccati. È singolare questo Gesù, l'uomo che non ha peccato, che si mette in fila con i peccatori. È il modo della sua incarnazione, che è un'immersione nel mondo della difficoltà, della divisione, della contraddizione, della paura. Gesù non rimane estraneo alla situazione degli uomini, ma la traversa, la condivide, la porta su di sé, si fa compagno di strada con ciascuno di noi, soprattutto quelli che sentono il peso della fatica del vivere e soprattutto il peso del loro peccato. Ma qui, proprio in questa immersione nell'umanità più fragile, nell'umanità più in difficoltà, proprio in questo momento, momento di inizio, avviene una rivelazione. Gesù scopre, sente una voce, scopre egli stesso, ma sente una voce dal Padre, una voce che viene dal cielo. Quindi non scopre a partire da una sua approfondimento, ma scopre anche lui, anche Gesù per rivelazione. Scopre la sua identità, l'identità di figlio. Ma lo scopre in un modo singolare. La voce dal cielo gli dice, tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. È come se il Padre gli dicesse, approvo proprio questo tuo gesto, sono pienamente d'accordo, sono con te a partire da questo gesto e in questo gesto. Sono d'accordo nel tuo modo di iniziare la tua missione, di vivere la tua presenza in mezzo agli uomini. Forse quello che aveva sconvolto Giovanni Battista stesso e tanti giudei benpensanti, trova l'approvazione del Padre. Certo, per il figlio di Dio è un gesto scandaloso quello di immergersi nella vita dei peccatori, di farsi peccatore con i peccatori, di andare al Giordano a lasciarsi rigenerare dalle acque del Giordano e a ricevere il battesimo da un altro, cioè da Giovanni Battista. Per il Padre invece è un motivo di compiacimento, cioè di approvazione. Nell'Avvento avevamo cantato e pregato, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ecco, Gesù proprio in quel momento, mentre si immerge nelle acque del Giordano, insieme ai peccatori, vede i cieli squarciati, lo dice il testo del Vangelo, e subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli. Questo è proprio il modo con cui il cielo si apre sulla terra, si apre perché Gesù è profondamente radicato nella vita degli uomini, questo è il modo di squarciarsi i cieli, i cieli ormai sono vicini alla terra, sono legatissimi alla vicenda dell'umanità. E dal cielo viene questa voce, la voce di approvazione, ma anche la voce che rivela l'identità di Gesù. Tu sei il figlio amato, da questo momento Gesù vivrà questa identità. Se questo è l'inizio, è tutta la vicenda di Gesù che è caratterizzata da questo, tutta la vicenda di Gesù, perché la fine, cioè il momento della croce, nella fine, nel momento della croce, troveremo quasi una corrispondenza tra questo inizio. Là non si squarcerà il cielo, ma si squarcerà il velo del tempio. Non sarà più la voce del padre che dice tu sei il mio figlio, ma sarà la voce di un pagano, il centurione, che dirà questo è il mio figlio. Non ci sarà più lo spirito che discende come colomba, in questo modo, ma ci sarà sempre lo spirito che esce da Gesù, che morendo dona lo spirito, consegna lo spirito. Vuol dire che questo stile di inizio è lo stile di Gesù, che giunge fino alla fine. In effetti sarà proprio nell'ora della morte che Gesù porta il peccato del mondo, come l'ha portato avvicinandosi ai peccatori che andavano al Giordano, e portandolo lo vince, lo vincerà definitivamente sulla croce. Allora nel nostro battesimo accade davvero il miracolo che il nostro peccato è vinto, perché abbiamo vicino uno che lo porta e lo distrugge.